Le parole del Presidente della Repubblica, a cui va ancora il nostro grazie, tolgono ogni dubbio su quello che è successo ieri nelle piazze italiane, se ancora ce ne fossero stati. Il Ministro Piantedosi chiede scusa ai ragazzi e alle ragazze e non si vedano più scene di manganelli su chi manifesta liberamente la propria prima.